Maria Esposito ha confermato di avere un nuovo amore nella sua vita e l'ha voluto presentare ai suoi fan, chi ha rubato il suo cuore. Era ormai da qualche giorno che si vociferava che nella vita di Maria Esposito potesse esserci un nuovo amore. Adesso è stata l'attrice di mare fuori a voler uscire allo scoperto, presentando a tutti il suo fidanzato. La giovane napoletana ha scritto anche alcune parole per spiegare cosa è accaduto tra lei e questo ragazzo. Dopo la relazione con Antonio Orefice, anche lui attore di mare fuori, perlomeno ufficialmente Maria Esposito non aveva avuto un nuovo amore. Diversi i pettegolezzi sulle sue frequentazioni, tra cui anche uno che parlava di un suo flirt con Jolie, tutti ampiamente smentiti dalla diretta interessata. Questa volta, invece, ha voluto dire a tutti quanto è innamorata. Chi è il nuovo fidanzato di Maria Esposito, cosa fa nella vita, le foto. Maria De Filippi ha presentato sui social il suo nuovo amore, si chiama Rocco De Angelis, ed è un napoletano doc proprio come la giovane attrice. La protagonista di mare fuori ha condiviso alcune immagini sui social che riprendono lei e il fidanzato in atteggiamenti affettuosi, e poi ha scritto alcune parole, facendogli una vera e propria dichiarazione d'amore. Può sembrare una storia come tante. Può sembrare una storia materiale. Può sembrare qualsiasi cosa in realtà, ma ciò che è realmente lo sappiano noi e Dio. Per assurdo, sembra quell'amore dei film, ma noi non siamo attori in questa realtà. Ti amo PSMP, queste le parole di Maria Esposito che ha quindi annunciato a tutti di avere un nuovo fidanzato e di amarlo tantissimo. Rocco De Angelis è un volto già noto, noto barman partenopeo, è diventato famoso per le sue abilità nella gestione dei locali e nell'organizzazione di eventi speciali. L'abbiamo visto all'inaugurazione del bar che Maria Esposito ha aperto ai quartieri spagnoli, Chuck, e anche qui ha dato prova delle sue grandi abilità dietro il bancone. E, stato quello il momento in cui sono iniziate a circolare le voci su una possibile relazione tra il ragazzo e l'attrice di Mare Fuori. Era il 29 settembre e a distanza di appena un mese Maria Esposito ha annunciato di essersi fidanzata e di aver trovato l'amore. Stando alle parole che ha usato, si direbbe che la loro storia sia iniziata già da un po' e magari ai tempi dell'inaugurazione del locale stavano già assieme. Il post dell'attrice, comunque, ha ricevuto molti like e commenti da parte dei fan che le hanno voluto fare tanti auguri per questa bella notizia.